Lui è Sprite, ha dieci anni e il suo ritrovamento è stato molto difficile. Quando lo abbiamo trovato era in fin di vita ferito e molto spaventato. Ci sono voluti alcuni giorni per riuscire a ritrovarlo. In questo momento ci sono animali con le ore contate. Salva le ore insieme a noi. Fino al 18 ottobre puoi donare con un sms o chiamando da rete fissa al 45586. Grazie a te potremo acquistare ambulazioni veterinarie specializzate per fornire assistenza agli animali in difficoltà ovunque si trodano.